In questo video ci occupiamo delle frasi modali che comprendono tra l'altro anche frasi infinitive. Ad esempio frasi introdotte da one, dalle preposizioni one e stat, one più accusativo, stat più genitivo, dalle infinitive one zu e stat zu, come pure dalle congiunzioni one das e stat das, che sono traducibili in senza che invece che, traducono poi anche il gerundio italiano con la congiunzione in dem e per finire abbiamo anche la congiunzione modale je più desto o un so e la congiunzione je nach dem a seconda di. Partiamo dalle frasi infinitive con one e stat. One è una preposizione che richiede l'accusativo, significa senza. Der Zug fährt ohne Alt, oder ohne Aufenthalt, nach Zürich. Il treno va fino a Zurigo senza fermarsi, senza fare una sosta. Potrei adesso decidere di collegare questa frase creando anche una frase infinitiva. In questo caso potrei usare ohne zu, potrei quindi avere una frase Der Zug fährt nach Zürich, e poi dovrei poter creare una frase con ohne zu, se il soggetto della seconda frase è lo stesso. In realtà la seconda frase avrebbe come soggetto ancora il treno, perché Der Zug fährt nicht unterwegs an, quindi il treno non si ferma in giro, perché va direttamente fino a Zurigo. Essendo lo stesso soggetto avremmo quindi Der Zug fährt nach Zürich ohne unterwegs anzualten. Non esiste la doppia negazione in tedesco, quindi se la frase ha una negazione come Der Zug hält nicht unterwegs an, se facciamo una frase con ohne zu, la negazione bisognerà toglierla. È possibile tuttavia fare la frase anche con la congiunzione ohne das. Der Zug fährt nach Zürich ohne das ihr unterwegs anhält. Tuttavia quando il soggetto è lo stesso, è stilisticamente più elegante fare la frase infinitiva. La frase con ohne das richiede comunque un soggetto e un verbo coniugato alla fine, è una subordinata. Vediamo ora la particella Statt, che significa invece, ed è una preposizione con il genitivo, Statt eine Begrüßung schickte man uns nach Hause. Anche in questo caso, se decidessimo di trasformare la frase in una frase infinitiva, avrei una frase come Statt uns zu begrüßen, schickte man uns nach Hause. Potrei evidentemente anche dire Man schicte uns nach Hause, Statt uns zu begrüßen. Statt dass man uns begrüße, schickte man uns nach Hause. In questo caso la traduzione è Invece. Invece di salutarci, ci hanno mandato a casa. Anche in questo caso, si preferisce la frase infinitiva, qualora i soggetti sono gli stessi. Come si traduce il gerundio italiano? Il gerundio italiano sono forme, per esempio, in ando in italiano. Ecco, in tedesco non esiste il gerundio italiano, dovremmo utilizzare delle congiunzioni. Una di queste, ad esempio, è in dem. In dem traduce quindi il gerundio italiano. Come traduciamo quindi la forma operandola, le salvò la vita? Beh, mettiamo la congiunzione in dem, poi mettiamo il soggetto, in dem er, il complemento oggetto sie, il verbo coniugato, in questo caso al preteritum, operirte, e poi la principale, retete ihr, a lei, quindi femminile, das Leben, la vita. Operandola, le salvò la vita. Abbiamo poi un'altra congiunzione modale, gli desto. Ie introduce un comparativo di maggioranza, è una subordinata. Avremo quindi ie, più aggettivo, poi avremo il soggetto e il verbo coniugato alla fine. Poi avremo la principale, che sarà introdotta da desto o umso, anche in questo caso, con un aggettivo al comparativo. E poi avremo la struttura verbo e soggetto. Quindi, je länger wir dem Fußballspiel zuschauten, desto größer wirdi pekai strum. Che può essere tradotto in quanto più noi guardammo la partita di calcio, tanto più grande fu l'entusiasmo, quindi più, più, in entrambi i casi. Abbiamo ancora una frase modale, che è je nach dem, che si traduce con a seconda di. Esempio, ich nehme die Wohnung, je nach dem, wie urte mit ist. Abbiamo la principale, abbiamo una virgola, abbiamo la congiunzione je nach dem, che a sua volta introduce un'interrogativa indiretta. Le interrogative indirette sono subordinate, quindi hanno anche loro una struttura con il verbo alla fine. Wie urte mit ist. Oppure ich nehme die Wohnung, je nach dem, ob sie uns gefällt. Per finire, vediamo ancora una panoramica di tutte le frasi modali. Possono essere frasi infinitive, quindi quelle che hanno la preposizione une e statt, une senza, statt invece, une con accusativo, statt con genitivo. Abbiamo possibilità di frasi infinitive, quindi quando i soggetti sono uguali, si preferisce usare l'infinitiva con une zu, senza, oppure statt zu invece di. Se i soggetti sono diversi, devo usare per forza la congiunzione une, das o statt zu. Poi abbiamo il gerundio italiano che in tedesco ad esempio si può tradurre con in dem, che è una subordinata che richiede un soggetto, un verbo coniugato alla fine. Abbiamo poi anche la costruzione «ye desto», «ye» introduce la frase subordinata, entrambe hanno un aggettivo al grado comparativo, «ye» è la subordinata mentre «desto» è la frase principale. Per finire abbiamo anche la congiunzione a seconda di «ye na tem» che richiede una frase interrogativa indiretta. a seconda di